quella condizione di esistenza la fonte preziosa attraverso roberto setti a cura di luciana campani setti campis se allora vogliamo fare una scala dell'illusione chiamiamola così ad un estremo della quale stia la realtà e all'altro estremo la massima illusione è chiaro che quella condizione di esistenza che noi abbiamo chiamato piano acasico sta in una posizione intermedia ma badate bene da questo esempio non dovete credere che l'illusione sia contrapponibili alla realtà lo sarebbe solo se l'illusione esistesse oggettivamente fosse una realtà oggettiva il che è una contraddizione in termini ovviamente noi affermiamo che l'individuo non ha un sé un ego uno spirito che si desta alla realtà che ciò che è conosciuto come sé come ego come spirito è un insieme di stati di coscienza l'uno sfociante nell'altro che abbracciano perché sono realtà sempre più ampie e profonde se fossi sicuro che voi sapete andare oltre l'angusto senso di un esempio sarei tentato di portarvi l'immagine di tanti cerchi concentrici di raggio sempre maggiore noi affermiamo che ciascuno stato di coscienza non trascorre permane nel non tempo al di là del suo illusorio succedersi derivante dal suo essere la realtà in modo sempre meno limitato per tornare al nostro esempio i cerchi di raggio inferiori non si annullano nel cerchio di raggio maggiore permangono al di là del tempo quantunque niente e nessuno nella realtà assoluta può essere distinto evidenziato distinguibile da dio ancora affermiamo che per quella continuità di sentire che deriva dal fatto che il sentire più complesso contiene il più semplice ciascun essere inevitabilmente si riconosce in dio ma questo riconoscersi in dio non deve trarvi in inganno e farvi credere che ciascuno di noi è dio grazie a tutti